Questo murale, se San Sebastiano guarito dalla peste, è la metafora di quanto è accaduto e quanto ancora accade negli ospedali del territorio. Fate conto che la donna che assiste il santo stia inoculando il famoso vaccino che salva. La torre era irrilevante, non comunicava niente. Adesso racconterà ai posteri che nella primavera del 2021 una cittadinanza lanciò la sfida dell'arte che cura le anime, mentre i dottori immunizzavano dei corpi. San Sebastiano si è affidato come le migliaia di donatori che nei mesi scorsi si sono affidati al Circolo della Bontà per far giungere alla sanità pubblica gli aiuti di cui c'era enorme necessità. Nessun ospedale di fronte a una ondata di Covid così profonda, così devastante, avrebbe potuto agire con i mezzi ordinari. Questi mezzi straordinari sono arrivati attraverso la fondazione dai cittadini.